Il consueto appuntamento di fine settembre Una settimana diciamo abbastanza calda nel piano internazionale Se pensate che cosa sta accadendo in Turchia Un esodo massiccio I venti di guerra si annunciano La situazione della pace nel mondo diventa sempre più precaria, fragile E bisogna avere i nervi saldi in questo momento In cui probabilmente le cose evolveranno in modo negativo Visto e considerato che è la muscolarità e non il dialogo a prevalere Comunque speriamo che questa vicenda, questa offensiva della Turchia Rientri anche perché la Turchia, come è noto, è sedenato E quindi eserciti già si muovono in direzione del tentativo della pace È stata una settimana molto importante anche sul piano della politica interna La politica nazionale E viene sempre fuori questa difficoltà di stare insieme Tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle In realtà il Movimento 5 Stelle accusa una crisi gravissima Con un tentativo di Luigi Di Maio di essere il protagonismo Di dimostrare tutta la sua ambizione fino a tentare di oscurare il Partito Democratico Che già ha in casa propria una grande difficoltà L'ascessione che è voluta da Renzi sta mettendo in crisi il Partito di Zingaretti Lo sta mettendo in crisi fino al punto che france notevoli si annunciano Con il passaggio nel movimento fondato da Matteo Renzi Il Partito Democratico si indebolisce Diventa ancora una volta, come è maledetta la sua storia Un partito di scissionista Un partito in cui le anime non riescono a convivere E difficilmente si trova la giusta ragione Per essere un partito di governo D'altra parte la spina nel fianco del Partito Democratico È Renzi in questa fase La cui consistenza in termini numerici Non è nota ma si potrà valutare Appena si darà il via alla Leopolda L'appuntamento annuale voluto da Matteo Renzi Dove saranno chiariti i motivi dell'ascissione Ma anche quale atteggiamento il movimento assumerà nel futuro Certo è che non è facile per Zingaretti Governare un partito che aveva tentato di portare all'unità E che manco è riuscito a farlo A proporre questa ipotesi Che subito ecco L'ascissione si è presentata con Matteo Renzi Governo che per la verità Sta cercando con la manovra Di trovare Anche ragioni popolari Per non dire populiste Che possano indirizzare il proprio impegno Verso la parte dei lavoratori Di chi non ha della povertà Sarà difficile Perché i conti poi alla fine Bisogna farli sempre con le risorse disponibili E le risorse disponibili Mentre c'è una grande attenzione Per una rivisitazione dello stato sociale Quello che una volta era lo stato sociale C'è anche la difficoltà di riaperire i fondi Perché le manovre annunciate E che cambiano di ora in ora Come state vedendo Come ci viene detto dal governo Possano trovare poi una risposta adeguata Qualcuno ha detto che sarà un autunno caldo Per il governo Immaginiamo che questo non sia Altrimenti quella stabilità Che da tutte le parti viene invocata Diventa ancora una volta una chimera In un paese in cui le difficoltà sono tante E i sogni si coniugano con le ambizioni E tutto però porta all'economia del paese Economia del paese che Non vive certamente un momento felice Ci saranno le regionali Fra poco in Umbria Insomma tutta l'attenzione è rivolta A questo appuntamento elettorale Che sostanzialmente è la prima prova Del dopo governo giallo-verde Salvini di Maio Ed è la prima volta che Le due corazzate diciamo così Con l'incogni Tarenzi si sfidano Per avere la parte migliore La parte maggiore diciamo così Del governo delle regioni Governo delle regioni Che a parte l'Umbria L'Abruzzo Insomma Vede anche la campania Che si è mossa con largo anticipo Sul dato elettorale Del 2020 Vede anche la campania Attenzionata Soprattutto dalla Lega L'altro giorno Il leader della Lega Matteo Salvini Parlando a Napoli Ha detto sostanzialmente Che è importante È necessario Come dire Puntare al cambiamento Della regione Campania E ha fatto nomi e cognomi De Luca e De Magistris Non vanno più bene Secondo Salvini Perché sono loro i responsabili Della sciagura napoletana L'ha definita così La difficoltà in cui vive la città La metropoli campana E per De Luca Le cose non si annunciano Proprio nel segno dell'ottimismo Con cui la campagna elettorale Era iniziata Petto fuori De Luca aveva Aveva e era E lo sta facendo Schierando in campo Tutti i suoi fedelissimi Ai quali ha dato L'ordine Di formare liste civiche In sostegno alla sua candidatura Per governatore Ma Ha due nemici Il PD Campano Che con migliore Ha detto chiaro e tondo De Luca è storia passata Non c'entra più Con la storia Della regione campania Chi ha detto Che sarà lui Il candidato Bisogna Immaginare Cose diverse E poi anche Topo L'ex consigliere regionale Commissario della sanità Poi Parlamentare del PD Lascia intravedere La possibilità Che il PD Possa Giocarsi Altre carte Oltre quella Di De Luca Non solo Il Movimento 5 Stelle È decisamente Contrario Ad una Ricandidatura Di Vincenzo De Luca È contrario Nettamente Forse Di Maio È più Tiepido Mentre invece Fico Il presidente Della Camera Che è da sempre Insomma Non ha sempre Condiviso Le intenzioni Di Maio Fico Ha detto In Campania La storia Di De Luca Si è conclusa Guai a fare Un'alleanza Con il Movimento 5 Stelle Partito Democratico Che sia fondato Sul Il continuismo Con De Luca Insomma Per De Luca Non sono Giorni felici Non sono Anche se Lui si sforza Come mai Ha fatto Di rimuovere Le cause Della sua Antipatia Innata Forse Non è neanche colpa Però Quel suo tono Abbastanza Arrogante Quella sua Continua Offesa Degli avversari La non capacità Di dialogo La voglia Di essere Il primo Della classe In una classe Che lo vede Completamente Assente Senza insegnamenti E sarà Una campagna Elettonale Molto difficile È stata Una settimana Nel corso Della quale Anche il Mezzogiorno Ha visto Scemare L'impegno Che Con la nascita Del governo Conte Si era Immediatamente Pensata Ad una riflessione Della ripresa Del dibattito Meridionale Così Non è stato Scema Sempre Di più L'impegno Verso Il mezzogiorno Sarà Un problema Di risorse Qualcuno Dice Un problema Di scippo Del mezzogiorno Qualche Altro Sostiene Che Il mezzogiorno Ha un cancro In se stesso Che non riesce A superare Quello Del trasformismo Del clientelismo Del giocarsi Tutto Nel periodo Elettorale Durante La campagna Elettorale Vedremo Che cosa Questa nuova Intenzione Questo nuovo Governo PD Movimento 5 Stelle Saprà dire Di nuovo Sul mezzogiorno Un mezzogiorno Che purtroppo Sali alla ribalta Nei momenti Di grande difficoltà E in base Ai rapporti Che la Svimez Offre E poi Lentamente Degrada Questo impegno Scema Questo impegno Fino a diventare Un'altra volta Dimenticanza Vedremo E potremo anche capire L'occasione Per Avellino Per l'Irpini È importante Lunedì prossimo Quando il premier Verrà Al teatro Gesualdo Di Avellino Per commemorare Per fare L'exo magistralis Fiorentino Sulla E finalmente Direi Si colma Una lacuna Che questa Provincia E questa Città Hanno Nei confronti Di Fiorentino Sulla I giornali Anche quelli Nazionali Danno Molta importanza Alla visita Di Conte Ad Avellino Perché È una Visita Che non parte Dalla promessa Ma dall'esempio E Fiorentino Sulla Se me lo consentite Era una persona Di grande Concretezza Intanto Uno dei pochi Statisti Che il paese Ha avuto Uno dei Le persone Più impegnate Anche sul piano Locale Ma che Probabilmente Per motivi Diversi Che sarebbe qui Difficile Analizzare E approfondire Ha dato il tempo Concesso E insomma È stato Un po' Oscurato Dalla storia Locale E ben affatto Gianfranco Rotondi Che Di Sulla Sostanzialmente Ha tentato Di Riappropriarsi Delle Delle Eredità A volere Questo appuntamento Questo Alexio Magistralis Del Premier Conte Che ha Tanti Significati Il significato Politico E che È il tentativo Di riappropriarsi Di quella Politica Del centro Che guarda A sinistra Che vide Fiorentina Sullo Tra i protagonisti Indiscussi Della pagina Di storia Della democrazia Cristiana Forse È la più Importante Uno statista Coraggioso Che non Aveva Timore Delle Innovazioni Le cui Riforme Ancora Oggi Sono Al centro Del dibattito Politico Pensate Alla scuola E pensate Al 68 Di Fiorentino Sullo Che non Ebbe Timore Di andare Nei licei Romani A predicare Il verbo Della scuola Buona Pensate Alla legge Urbanistica Che gli costò La defenestrazione E la penalizzazione Totale Da parte Dei gerarchi Della democrazia Cristiana Del tempo Insomma Conte Trova Di fronte A sé In questa città Nella sua visita Tante occasioni Per parlare Di una politica Che non c'è più Che era Il momento Di riflessione Non Per la provincia Di Avellino Ma in Italia Dopo Sullo Ci verrà De Mita In questi giorni De Mita Ha detto Che sostanzialmente Il contrasto Con Con Sullo Nasceva Dal fatto Che lui De Mita Difendeva Bianco Mentre Sullo Voleva Metterlo fuori Dall'impegno Dall'impegno Del partito Gli è replicato Sul quotidiano Del sud Gerardo Bianco Con Il suo Fair play La classe Che lo Contradistingue E che sostanzialmente De Mita Ricorda male Ed è Insomma Anche questa Una disputa Alla vigilia Della visita Del premier Conte Che riporta Il dibattito Politico Alle grandi Questioni Che non sono Pettegolezzi Ma sono L'interpretazione Della storia Della nostra Provincia L'interpretazione Di una storia Che ha Fatto Grande Il paese E veniamo Un po' Alle cose Di casa nostra Di Avellino Venuto Il presidente Dell'antica Dell'antimafia Morra Ad Avellino Vertice In prefettura Vertice Al comune Vertice In procura Soprattutto Con il procuratore Cantelmo I suoi sostituti E il monito Che viene Attenzione Sostanzialmente Dicono Gli inquirenti Avellino L'irpinia Sta cambiando pelle La camorra Non è più Una Una cosa Inesistente Non è affatto Rassicurante Il clima Che si respira La camorra È dentro le cose È dentro gli affari Passa Attraverso Le istituzioni Attenti A non cedere Il passo Alla Mala politica Insomma Un monito Molto Molto severo Che Gli fa dire A morra Avellino Oramai Deve essere Attenzionata Che significa Non si era mai usato Un linguaggio Così pericoloso Probabilmente Dalle informazioni Dalle informazioni Che morra assunto Dalle istituzioni Locali Si è reso conto Che il periodo Che la città Sta attraversando È un periodo Molto difficile E che lo scontro Tra i clan Non sempre Con Pistolettate O cose varie Ma anche Con i colletti Bianchi Mette in crisi Ancora di più Il sistema Democratico Che ha salvato Nonostante tutto La nostra città Dal malaffare Vedremo Che cosa Accadrà Il clima Poi Diventa Rovente Se si pensa A quello Che è accaduto A Mario Bianchino Sindaco Ex sindaco Di Montoro Io ritengo Che lui Sia uno Dei migliori Sindaci Che la provincia Di Avellino Abbia mai Espresso Per la competenza Per la capacità Per il coraggio Che ha dimostrato E che Insomma Probabilmente Deve dare Fastidio A qualcuno Se è vero Come è vero Che nella sua auto Così come Ha riferito Anche agli organi Inquirenti Ha trovato Fotografie Di due Persone Scomparse Il che Significa Un monito Stai attento A quello Che fai Insomma Vedete Come le cose Diventano Pericolose Teniamo conto Anche che Montoro È una Cerniera Tra il Salernitano L'agro Sarnese Nocerino Qualche Interesse Che si muove In quel Paese Qualche Promessa Che è stata Fatta Pure in Campagna Elettorale E insomma La cosa Diventa Difficile Naturalmente Esprimiamo Tutta Esprimo Anche Personalmente Tutta la Nostra Solidarietà A Mario Bianchino Per quello Che gli è Capitato E per quello Che gli Capita In queste Ore E insieme A lui Vorrei Ricordare Anche Un altro Sindaco Attenzionato Come si dice Ora Dai poteri Criminali Il sindaco Di Quindici Di Lauro Bossone Anche lui Fatto segno A minacce Anche lui Non sta Vivendo Un periodo Per quanto Egli sia Abbastanza Coraggioso Come Bianchino Un periodo Come dire Di calma E di Serenità E anche a lui La nostra Solidarietà Il dato Emergente Di questa Settimana È l'imperversare Della droga In città E in provincia Guardate Attraverso Lo spazio L'uso Della droga Nascono Le cose Più pericolose Dal furto Alle minacce Alle percosse E la droga L'avellino È stata Dicevano pure Molto sottovalutata Molto sottovalutata E se ne parla Ora perché Quattro ragazzi Quattro giovani Sono stati Arrestati E che addirittura Usavano un minore Per spacciare Davanti alle scuole O poco lontano Dalle scuole Per memoria Storica Pensate che Gli anni Decenni Trascorsi Quando C'era un morto Per droga Oppure C'era una retata Per droga Quando cioè Le forze Dell'ordine Erano Impegnate A combattere Questa malapianta I giornali Titolavano A sette colonne Otto colonne Secondo Il formato Del giornale Oggi Quello che accade Ed è Poco rassicurante Credetemi Molto poco rassicurante Merita sì E non Uno spazio Di una colonnina Di una breve Nascosta Nelle pagine Dei giornali E questa Era la sottovalutazione Devo dire Con Per verità Che il procuratore Della Repubblica Cantelmo Sin da quando È giunto in città A parte Le nobili battaglie Che ha fatto Per Ridare Moralità Alla pubblica Amministrazione Ha sempre Sostenuto Sin dal primo giorno Che è venuto Che il pericolo Era la droga E che L'Irpini Andava lentamente Inondandosi Di questa Malapianta Che comunque In ogni caso Tenta di Rendere Difficile La vita La vita Delle famiglie Guardate Ci sono famiglie Che si sono indebitate Che hanno visto Figli rubare Che dopo aver fatti Tanti sacrifici Per i loro figli Si vedono Li vedono Così In preda A questa Malapianta Che veramente Sta creando Una situazione Di grande Difficoltà Nella nostra Città Anche in provincia C'è una cascata In provincia Di droga Da far paura Gli arresti Che si fanno La enormità Delle azioni Di blizze Che vengono Fatti Ci dicono Come Bisogna Tenere La guardia Alta Rispetto A questa Piaga Che Sta Veramente Preoccupando La realtà Cittadina E provinciale Non bastano La repressione La forza Dell'ordine Gli arresti C'è bisogno Di Un coro Di responsabilità Che partendo Dalla scuola Dalla chiesa Alla politica All'impegno sociale All'occupazione Combatta Veramente La piaga Della droga E che Insomma Guardate Il circolo Si chiude Il cerchio Si chiude Nel momento In cui Noi Registriamo Come accade Continui Viaggi Tra Scampia Tra I comuni Dell'Interland Napoletano E la nostra città Ogni tanto Se per non dire Ogni giorno Ci sono Giovani Che vengono Fermati Con carichi Di droga E questo Non va bene Perché L'invasione Una volta Che è diventata Abitudinaria Infetta La città Infetta Infetta La provincia E beh Ci sono Gli strumenti Per combattere A parte La repressione Per combattere La mala pianta Per esempio Il piano Di zona C'è uno scandalo Infinito Sui piani Di zona I comuni Introitano Soldi A non finire Che cos'è Un piano Di zona E sostanzialmente E' uno strumento Per combattere Alcune Emergenze Che sono presenti Nel corpo Sociale Parlo Della Cura Degli anziani Della lotta Alla droga Dell'assistenza Domiciliare Insomma Di uno stato Sociale Ecco Che può E deve Fronteggiare Queste Queste Emergenze Ebbene Sono anni Sono anni Guardate Che ad Avellino Il piano di zona Non funziona Che i soldi Che la regione Mette a disposizione Restano Accantonati lì E sapete perché Perché è più importante Eleggere un presidente Un commissario Mettere d'accordo Coloro che si Fronteggiano E si combattono Che Fare la Giusta Guerra Alla droga Oppure Ristabilire Le regole Del vivere Sociale Nell'interesse Comune Nel bene Comune Allora Il piano di zona Perché Ad Avellino Non funziona Che è il capofila Perché anche qui I gruppi di potere Si scontrano E nella stessa Maggioranza C'è un Uno scontro Senza fine Tra chi vuole Presidente Direttore generale Una persona E chi vuole Un altro E lo scontro È vivissimo Nella maggioranza C'è per esempio Qualcuno che sostiene L'ex sindaco Di Arribalda Persona di grande Serietà Devo dire E chi invece sostiene Un'altra parte E tutte e due le parti Hanno contribuito A fare leggere Il sindaco Di Avellino Lo scontro di potere Secondo la giusta Riflessione E i piani di zona Stanno fermi Sono bloccati Ad Avellino Guardate È una cosa Indicibile Le riunioni Si convocano Vanno Dispersi Perché Chi deve partecipare Deve Dar conto A uno O all'altro È lo stato sociale Per il quale Questo paese Ha combattuto tanto Ma la nostra città Avendo strumenti Milioni A disposizione Non li mette In campo Per combattere Le povertà Per aiutare Gli anziani Per fronteggiare I fenomeni Come la droga Di cui dicevo prima Ecco Tutto questo Mi sembra Davvero Assurdo È un po' Il ruolo Della classe dirigente Della nostra provincia Oramai ridotto Ai minimi termini La politica Non è più La risposta Ai bisogni Ma è un motivo Di scontro Di appartenenza Di potere Di acquisire Vedete Nella sanità Che cosa succede Chi è bocciato Da una parte Promosso Dall'altra parte Che anche qui Anche qui Anche qui ci sarebbe Da dire molto Prendete questo manager Che è stato inviato Da Benevento Inviato È una parola Molto generosa Che è stato Premiato Da Vincenzo Luca Al Moscati Sta rendendo Quello che era L'ospedale Fiore all'occhiello Non della Campania Ma del Mezzogiorno Erano questi Gli obiettivi Una sorta Di lazzaretta Non sa che pesci Prendere Non sa come Sa solo Di essere obbediente E fedele A chi lo ha premiato Moscati era Una eccellenza Oggi è diventata Una cosa Se visitate Alcuni reparti Fatta eccezione Naturalmente Per Le eccellenze Che pure Ci sono Ma che lavorano Improprio Per la passione civile Che li caratterizza Per l'impegno sociale Che ci mettono Il Moscati Sta diventando Un lazzaretto E tutto questo Non fa capo Al cliente Alle liste di attesa A quello che accade Ma al clientelismo Vincere Che si sviluppa Intorno Alla questione Della sanità Voi sapete Che io Ho una Ho compiuto Una riflessione Sull'ospedale Sull'accorpamento Dell'Andolfi Di Solofra Con Il Moscati Di Avellino Allora Fino a che Il Moscati Di Avellino Aveva Un suo corpo Medico Una sua Grande eccellenza Tutto andava bene Ora che viene in mente A questi sciagurati Perché non c'è altro Che cosa viene in mente Di accorpare L'ospedale di Solofra All'ospedale di Solofra Al Moscati Per fare Di due Debolezze Allo Stato Una grande Debolezza Si devono spendere Dei soldi Allora Quando c'è da muovere Soldi La cosa Non finisce mai E allora L'ospedale di Solofra Che non ha I criteri antisismici Non ha La percorrenza Necessaria Per garantire Il servizio Della salute Deve essere accorpato Per fare Che? Quale clientela? Quali soldi Bisogna spendere? E De Luca Che dice Di tutto questo? Pensa forse Che la Valle dell'Irno Sia più importante Del Moscati Di Avellino O della salute Dei pazienti Ma lasciamo perdere Lasciamo perdere E purtroppo La politica È morta In provincia Di Avellino Sono trascorsi Dieci anni Dalla nascita Del movimento Cinque stelle Il grande botto Partiti storici Cancellati Personalità Cancellate Dopo dieci anni Il movimento Cinque stelle Ha acquistato La città L'ha perduta È ancora in situazioni Di grande difficoltà Tra gli stessi parlamentari Anche questa speranza È morta Per coloro Che ci avevano creduto Ora si trovano Di fronte Ad un partito Ad un movimento Che non è né carne Né pesce Che è laserato È diviso E vai avanti così Vorrei concludere Con una notazione Che riguarda L'acqua Altro tema A me Molto caro L'acquadotto Pugliese Si appresta A celebrare Il centenario In pompa magna Con interventi europei Per dire al mondo Che l'acqua Del sele È una delle risorse Più importanti In Europa E la classe Dedicente Irpina Che fa Quell'acqua Che fa celebrare Il centenario All'acquadotto Pugliese Quell'acqua Sgorga Dalle nostre montagne Da caposele Quell'acqua È nostra C'è stata scippata E il silenzio Continua In perterrito Nei confronti Di chi avrebbe Dovuto fare E potuto fare Una battaglia Di civiltà Per far diventare Quell'acqua La nostra acqua Il petrolio Della nostra provincia E qui invece Si discetta Tra chi è più bravo A fare l'imbroglione E chi è più delinquente A fare Affare Di questo Purtroppo Siamo tutti responsabili Perché abbiamo Un'arma importante Nelle mani Quella del consenso Quella della moralità Quella della questione morale Che forse abbiamo Difficoltà di impugnare Buonasera A fare l'imbroglione 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 A fare l'imbroglione